Bella a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di Marco Porcuno Volevo solo dirvi una cosa al volo Che non è che mi sono perso So che dovevo uscire a marzo il video del golf ma Non è ancora uscito per questioni di tempo Però prima o poi giuro che ve lo porto E come potete vedere il golf è questo In più io ho preso una cazzutissima e ignorantissima BMW Serie 3 318i Che è più vecchia di me Però una cosa importantissima è ignorante e ha la trazione posteriore Quindi col sole è fottutamente inutile andare in giro Anche perché potrei solo farvi vedere una tirata E fidatevi che tira Ha qualche piccola modifica per adesso E comunque un motore aspirato normale Non ha ancora il compressore volumetrico Non ha il kit turbo per adesso E già così vi posso assicurare che è abbastanza potente come macchina Volevo prendere il 318i S Però non ne ho trovati per come li volevo io Cioè come macchina a progetto da restaurare Da rimettere a nuovo Infatti quella è una cosa che voglio fare io nel tempo L'ho presa, ripeto, come macchina a progetto Quindi la mia intenzione è quella di divertirmici Non è di certo quella di fare subito Almeno nell'immediato una macchina da esibizione Perché volessi fare quello Una verniciata, due martellate, quattro BBS L'assetto ce l'ha Quindi diventerebbe subito una macchina a disposizione Ma non è quello che voglio fare io Io voglio impararci a driftare E fare qualche derappata ignorante Quindi quando ci sarà la pioggia Avrete un video di me che imparo a driftare E a guidare un trazione posteriore Detto questo spero che le macchine vi siano piaciute Noi ci vediamo presto alla prima driftata Al prossimo video Un saluto da Marco Porcuno Bella! Ciao!